Ciao a tutti amici, ciao YouTube. In questa video ripetizione vi voglio far vedere veramente in 30 secondi come aggiornare il tuo Linux Ubuntu 13.04 all'ultimissima versione in alteprima Linux Ubuntu 13.10 su Sysalamander. Guarda è semplicissimo. Apreti il tuo terminal e scrivi le seguenti linee di comando. Sudo update trattino manager spazio meno di e premi invio. Metti la tua password, premi invio di nuovo, abbi pazienza 4 o 5 secondi e come vedi parte il software updater ovvero l'aggiornatore di software. Quindi oltre a scaricarsi la lista di tutti gli aggiornamenti attualmente disponibili sul tuo sistema operativo Linux Ubuntu 13.04 una volta che lo hai aggiornato con questo particolare comando sudo spazio update trattino manager spazio meno di che trovi anche in descrizione. Come vedete la fine ti dice guarda il software nel tuo computer è aggiornato tuttavia puoi anche scaricarti e installarti Ubuntu 13.10. Attualmente abbiamo infatti Linux Ubuntu 13.04. Volendo clicchi upgrade ovvero aggiornati ed ecco fatto che sta partendo l'aggiornamento da Raring Green Tail Ubuntu 13.04 a Sosi Salamander. Clicchi upgrade e come vedi sta iniziando a scaricare i file necessari e poi inizia anche a fare il fetch e quindi il deploy ovvero l'installazione di tutti i file e i componenti software necessari per fare l'upgrade da Linux Ubuntu 13.04 all'ultimista versione 13.10. Solo due consigli amico mio ti volevo dire. Primo considera almeno dai 30 ai 60 minuti nei quali la tua macchina e il tuo computer aggiornerà Linux. Quindi prenditi bene i tuoi tempi perché prima di 30 o 60 minuti a secondo la potenza del tuo processore e della RAM della tua macchina e del tuo computer non lo potrai utilizzare. E secondo se non ti puoi permettere di avere un computer o una macchina con qualche bug allora ti consiglio di aspettare la data di rilascio ufficiale di Linux Ubuntu 13.10 che mi pare è il 25 ottobre 2013 ovvero fra pochissimi giorni. Per chi ci vede dopo il 25 ottobre 2013 e hai una versione Linux Ubuntu 13.04 fai tranquillamente questo comando e aggiorna del tutto. O per chi magari ha dei file importanti sul suo computer sulla sua macchina può sempre utilizzare Ubuntu One questo qua vedi in basso a sinistra dove con 5 giga di backup puoi sempre farti il backup dei tuoi dati importanti. Se non so supporto fisso chiavetto harddisk li puoi anche backupare su Ubuntu One. Per chi non sa cosa sia Ubuntu One metto un link in basso spero non ti dia fastidio dove spiego che cos'è. Ti mando un saluto ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale YouTube Videoripetizioni ci trovi dappertutto oltre 2000 amici si sono già iscritti e a breve avremo anche un'app ad ora per Android Videoripetizioni. Ti saluto amico mio ti mando un abbraccio e ti auguro un'ottima giornata. Ciao a tutti ciao YouTube. Ciao a tutti.